È vero che Fratelli d'Italia è un partito spaccato a Ribera, tocca all'onorevole Savarino risolvere la situazione. Così è il nostro telegiornale Mariano Ragusa, a cui abbiamo chiesto di commentare le recenti fibrillazioni iniziate con l'uscita di scena della sua componente, che ha partecipato alle elezioni con l'identità di Diventerà Bellissima per poi confuire nel partito di Giorgia Meloni. Chi più della Savarino in una situazione di questo tipo è legittimata a chiedere l'UMI per quanto riguarda la situazione a Ribera. Il sindaco sembra impastitito da questo, infatti gli dice che tutto va bene, forse vive un'altra dimensione della politica. Lei dice questo perché di fatto ci sono due gruppi dentro Fratelli d'Italia, una parte con il sindaco e una parte tra cui voi. C'è un unico partito che è Fratelli d'Italia e il sindaco ha deciso di spaccare questo partito. La componente Ragusa è quella che si è defilata dall'amministrazione facendo dimettere il suo assessore dopo la trattativa con il sindaco Rubolo sul ritorno in amministrazione di Forza Italia. Non fu una commedia e noi non siamo interessati alle poltrone, dice Ragusa. Il sindaco però dice che voi vi siete sfilati, è stata una vostra decisione. È lì che cascalasino, perché noi non ci siamo sfilati. Forza Italia, una volta che lui ha fatto il passaggio con Fratelli d'Italia, non si sentiva rappresentati in giunta. e quindi ha chiesto una verifica di maggioranza. Noi abbiamo colto, eravamo diventati bellissimi, abbiamo colto questo disagio. Ecco, il sindaco dice che voi avete fatto un po' sponda, avete fatto un po' la commedia. No, no, no. Chi ha in mani un'altra trattativa, il sindaco, uno può chiedere alla luna. Noi abbiamo dato la disponibilità in tutte le forme e in tutte le riunioni e anche in il Consiglio Comunale, abbiamo dato la disponibilità a cedere ad un assessorato. Non potevamo fare di più, perché in quel momento eravamo cinque consiglieri comunali e avevamo tre assessori. Ci ha chiesto di fare, diciamo, il sacrificio di un assessore. Lo abbiamo fatto dicendogli che lo mettevamo a sua disposizione per poter, diciamo, sanare questa crisi, questo chiarimento all'interno della maggioranza. E questo le permette di dire, immagino, che l'accusa che voi siete interessati alle poltrone non è fondata, in buona sostanza, avete rilunciato. Sulle poltrone avevamo fatto una richiesta di avere il Presidente del Consiglio come prima lista, siccome Forza Italia esprime per il sindaco, noi pensavamo che era giusto che avessimo, diciamo, la presenza del Consiglio. Il sindaco in quell'occasione ci ha detto che aveva preso impegni con il Presidente dell'allora Commissione del bilancio, che il Presidente del Consiglio doveva essere dei Forza Italia. A dimostrazione che noi non teniamo alle poltrone e siamo una forza inclusiva, abbiamo accettuto anche su questo. Racusa non si sente un traditore del progetto Rubolo, noi siamo stati leali, dice. Quindi lei dice che non siamo stati noi a tradire questo progetto. Ma i fatti parlano, non ci sono parole. E l'onorevole Savarino, lei lancia un appello, insomma. Ma l'onorevole Savarino, secondo me, ha il dovere e diritto di interessarsi alla questione di Ribera, perché c'è un partito spaccato, il centrodestra frantumato. Poi l'accusa il sindaco, lavora in solitaria, è noto una certa sudditanza nei confronti del deputato regionale DC, Carmelo Pace. Il sindaco governa da solo, ha qualche piccola sponda, diciamo, nascosta, che non vuole venire fuori, non so qual è la paura che c'è a far venire fuori questa piccola sponda che ha nell'amministrare il Paese. Io ritengo che il rapporto tra il deputato locale e il sindaco, il rapporto istituzionale è obbligatorio. Basta ammetterlo che c'è questo rapporto, diciamo, politico alla luce del sole, senza sottofuggi, perché ci sono nomine, diciamo, fatte dentro il comune che fanno capire che c'è qualche indesa, diciamo, che va al di là del rapporto istituzionale. Con rispetto dei suoi capelli bianchi posso chiederle, ma le persone, tutti questi movimenti, questi spostamenti, questa partita a scacchi della politica, le capiscono? Ma alla gente non interessa, alla gente interessa ben poco delle diatribe che ci sono nella politica, alla gente interessa essere amministrati bene e Ribera le devo dire che non è amministrata bene. Infine Ragusa si dice disponibile a ripartire da zero. Il suo gruppo eventualmente sarebbe disponibile ad accantonare il passato e risedersi di nuovo? Io faccio parte di Fratelli d'Italia, quello che decide il partito io faccio. In questi istanti il partito è rappresentato da Giuseppe Savarino come un unico deputato della provincia di Grigento in assenza di un coordinamento provinciale e di un coordinamento cittadino. Io, rispetto a queste cose, mi confronterò con il massimo rappresentante, come vedendo che debbano fare tutti quelli che fanno parte di Fratelli d'Italia fin quando non si fanno gli organi provinciali. Compreso Matteo Ruboli. Compreso a sindaco, certo.